Ancora ombre sul progetto case. La procura della Corte dei Conti ha delegato alla Guardia di Finanza, da quel che si sa, le indagini sulla mancata riscossione dei canoni e delle bollette del progetto case, questo enorme patrimonio immobiliare del comune, che più che una risorsa al momento sembra una problematica. Il comune ha crediti per circa 20 milioni di euro. Di questo argomento si è parlato anche in un'accesissima commissione comunale, in cui sono volati anche scambi di accuse reciproche tra consiglieri. L'aggiunta comunale ha votato così una delibera che ora dovrà passare in consiglio e prevede la riscossione coattiva dei soldi non versati. Tecnicamente il comune incarica l'agenzia delle entrate della riscossione, dando una lista di utenti morosi che rischiano pignoramenti a questo punto se dovessero continuare a non pagare. Il comune dell'Aquila i anni ha provato ad incassare i crediti che aveva nei confronti dei morosi del progetto case. Non vi è riuscito e per esigenze di tipo contabile si è resa necessaria un'azione più incisiva, volta a tutelare il credito che il comune dell'Aquila, quindi tutti i cittadini, avevano nei confronti dei morosi. Pertanto si è proceduto, attraverso una legge che lo consentiva, di fare un protocollo con l'agenzia delle entrate per affidare a questa la riscossione dei crediti del progetto case riguardante i canoni non pagati e dovuti al comune dell'Aquila. Altra nota dolente è che il comune dal 2018 non invia le bollette relative ai consumi. La Corte dei Conti si è mossa dopo una relazione della Commissione Garanzia e Controllo su input del presidente Giustino Masciocco, che parlava di situazione fuori controllo. In base a questa viene fuori che il comune dal 2010 al 2019 non ha incassato ben 15 milioni di euro tra consumi, canoni e bollette. La voce più importante è quella relativa ai consumi.